amiche amici di rossini tv buonasera grazie per aver scelto di passare anche questo lunedì insieme a noi come vedete siamo nella nostra postazione di fisioradi medical center questa sera incontreremo un dottore il dottor sto andando a vedere noi in realtà lo sapevo il dottor antonio padolino antonio padolino che è un ortopedico traumatologo la sua specializzazione è la spalla l'abbiamo già incontrato l'anno scorso ci aveva dato delle indicazioni molto ben dette su questa articolazione che è una delle articolazioni più mobili dell'intero nostro organismo dell'intero nostro scheletro oggi affronteremo un tema davvero molto interessante e lo vedremo insieme dottor antonio padolino è tornato anche quest'anno nella casa dei nostri amici telespettatori e amiche telespettatrici di rossini tv buonasera buonasera a tutti siamo contenti di essere ancora con lei parleremo anche oggi della spalla lei un ortopedico traumatologo specializzato nella spalla e parleremo di quella che giustamente lei ha definito in termini tecnici artrosi gleno omenale che vogliamo tradurre in maniera più semplice per fare capire meglio di cosa si tratta ok artrosi gleno omenale l'artrosi della spalla questa articolazione di cui mi occupo di cui ci occupiamo qui da fisioradi è l'artrosi partendo da che cos'è è una patologia reumatica partenza reumatica cronica degenerativa quindi un processo cronico che va a colpire non soltanto la cartilagine come si pensa comunemente ma va a interessare anche l'osso subcondrale quindi la parte ossea quindi creando anche dei geodi va a colpire le strutture i tessuti molli intorno a cambiare un po' l'anatomia della spalla pensate che in italia sono colpiti circa 15 per cento della popolazione quindi circa 4 milioni di persone soffre di artrosi in generale che sia ginocchio anca e spalla e la spalla è una delle più dolorose anche se non è un articolazione di carico è la più mobile come dicevamo anche l'altra volta la più mobile del nostro corpo subisce queste variazioni artrosiche e queste variazioni artrosiche dottore chiaramente creano anche un'infiammazione nel tessuto circostante quindi è dolorosa è una una patologia dolorosa è una patologia dolorosa che può creare del liquido del versamento molte volte quando il paziente fa un esame dice ma dottore ma cos'è questo versamento è un del liquido dovuto al fatto che l'articolazione non si muove più come prima quindi si infiamma volgarmente detto e crea dolore quindi il primo sintomo dell'artrosi è il dolore come dicevamo l'altra volta per l'acuferotatori è un dolore diverso rispetto a quello tendineo perché il dolore tendineo è un dolore principalmente notturno mentre il dolore artrosico è un dolore che compare prevalentemente al mattino a risveglio ed ha anche una sensazione di rigidità della spalla poi tende a ridursi e attenuarsi molto durante il corso della giornata quindi anche quello ci fa pensare che stiamo di fronte a un quadro artrosico oltre al dolore la limitazione articolare può essere un campanello d'allarme quando la spalla si rigidisce durante al mattino allora se dura per diverso tempo se gli antinfiammatori riducono dolore ma non lo fanno sparire allora forse il caso di rivolgersi a uno specialista effettuare magari una radiografia che l'esame col standard primo esame fatto è un'ecografia e quindi andare da uno specialista quindi quando a noi capita la mattina no di alzarci avere davvero difficoltà nel riprendere i movimenti per tanti motivi in realtà siamo di fronte molto probabilmente situazioni del genere è una curiosità come mai durante la notte magari di meno e come se oppure su cosa succede durante la notte in questo caso allora per quanto riguarda i tendini fanno male di notte perché l'articolazione della spalla essendo sollecitata molto dalla forza di gravità e avendo un'insufficienza della cuffia rotatori la forza di gravità aiuta a non sentire dolore durante la notte la spalla tende a risalire ad occupare lo spazio subacromiale e quindi a dar dolore di notte mentre l'artrosi non ha questa genesi a meno che non sia un'artrosi da lesione di cuffia allora ha una doppia genesi ma se è un'artrosi pura durante la notte la spalla riposa quindi non soffre di questa problematica e quindi al mattino con lo scatenarsi anche a livello ormonale il cortisolo e quanto il dolore si accentua e poi passa un'altra giornata muovendola un pochettino e tra virgolette riscaldando un po la muscolatura questo dà un beneficio al paziente e chiaramente nel momento in cui ci accorgiamo di avere questo dolore quindi veniamo dallo specialista viene diagnosticata questa patologia inizia un qualcosa che sicuramente dobbiamo fare assolutamente sì nel senso ci sono tante cose che si possono fare la prima cosa è vedere lo specialista si accorge se l'articolarità della spalla è un'articolità completa perché questo fa sì che siamo ancora in un'artrosi precoce cioè quando la spalla si muove completamente e il dolore c'è ma di solito il quadro artrosico è all'inizio quindi la prima cosa da fare è impostare un buon percorso riabilitativo che può essere un percorso in acqua dell'idrochinesi terapia che dà beneficio anche alle masse muscolari entriamo nel campo della fisioterapia la fisioterapia quindi degli esercizi con il fisioterapista concordati per andare a bilanciare un po la spalla questo sempre per un'artrosi primaria e poi si possono utilizzare delle infiltrazioni con acido iuronico del cortisone quando una volta una tanto quando la capsula è molto infiammata quindi per ridurre molto il dolore però la parte riabilitativa la fa un po da padrone in questa prima questo primo screening per quanto riguarda il paziente quindi comunque un approccio farmacologico iniziale ci può essere non so quanto senso abbia dire provo dolore alla spalla prendo un antidolorifico per farmelo passare perché in realtà andiamo solo sul sintomo ma certamente non sulla causa assolutamente sì però è la cosa che si fa sempre perché quando uno ha male alla spalla o al ginocchio prende un antinfiammatorio se tre quattro giorni passa diciamo va avanti così però questo noi stiamo parlando di un dolore che sta andando avanti anche da un mese due mesi allora prendere un antinfiammatorio quando il dolore va avanti per due mesi prende due mesi antinfiammatorio non ha tanto significato diciamo ci potrebbero essere casi nei quali si deve andare oltre a questo approccio fisioterapico sicuramente sì proprio un approccio chirurgico vero e proprio perché potrebbe arrivare il momento nel quale estrema razio bisogna andare fra virgolette sotto i ferri molte volte quando questo percorso non ha successo oppure capitano casi d'amblè che la spalla inizia a far male da anche da poco tempo però c'era una lesione di cuffia pregressa che ha scatenato questa artrosi allora si può andare incontro all'intervento chirurgico quando si vede ci accorgiamo dalla radiografia o dalla risonanza magnetica che non si può far fare il percorso riabilitativo allora è giusto dare indicazione al paziente per fare un intervento e l'intervento principe per l'artrosi di spalla è una protesi una sostituzione protesica come accade anche per il ginocchio per l'anca ci sono delle tipologie di persone più soggette ovviamente a seconda del lavoro che fanno dell'attività fisica che fanno rispetto ad altri sicuramente assolutamente sì le donne sono sempre quelle un po più colpite forse dico forse perché non è stato ancora scientificamente provato per un fattore ormonale cioè per dopo la menopausa si scatenano dei fattori ormonali che vanno ad accelerare questo processo gli uomini vanno più incontro a lesioni massive di cuffia che non vengono riconosciute e poi pian piano questa spalla si sbilancia quindi la cartilagine viene consumata in maniera simmetrica e quindi vanno incontro a un'artrosi uno sport tanto di moda adesso c'è anche un tennista pesarese che alle soglie dei primi cento del mondo il nostro giovanissimo luca nardi veramente mette la spalla sotto una sollecitazione continua quando vediamo tirare i servizi a 230 all'ora io mi faccio la domanda ma cosa succede dentro quella spalla in quel momento succede che la spalla sicuramente ben bilanciata per cui è molto allenato quindi le strutture capsule legamentose riescono a bilanciare lo sforzo però comunque un sovraccarico a livello cartilagineo c'è più che lo sport venire d'artrosi come per le ginocchia e per le anche soprattutto nei calciatori per la spalla possono essere anche traumi anche episodi di lussazione che ha avuto da giovane a far partire questo percorso artrosico senza accorgere piano piano la spalla diventa artrosi come interventi perché noi abbiamo parlato anche in precedenza di interventi di stabilizzazione della spalla o interventi dell'artroge sono interventi artrogene cioè quando si va a intervenire all'interno della spalla questo può causare un processo artrosico un aumento del processo artrosico dottore grazie di tutto è stato davvero molto interessante le volevo fare una domanda un po fuori dagli schemi chissà come mi potrebbe rispondere ma perché per chi ha determinati problemi si dice che ha la scimmia sulla spalla perché probabilmente questa diciamo questa idea è venuta dal fatto che la spalla essendo vicino alla testa è un problema continuo quindi praticamente noi anche le capsulite adesive vengono a volte per problemi psicologici o lutti o problemi quindi essendo molto vicino alla testa si pensa che la spalla sia una delle cose più preoccupanti che ci siano per la persona dottor padolino grazie anche per averci tolto questa curiosità grazie a voi buona serata a tutti ci vediamo lunedì prossimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti